Davide ti faccio scelte lei si tanto ti entro lo stesso ti ho abbutato Shalopraio partecipazione alla sessione di Shalopraio sconti back in black si cre che ti piace a queste tre domanda scontata Davide vero chi ti piace del duc di averlo già capito vediamo se ho ragione ah a te piace Octane in effetti è bello piace anche a Nico perfetto quanto costano è una pazzia è una truffa 6.000 siamo pazzi non ho parole invitiamo Marco che c'è Davide? ah si sono le ore 62 Davide che cosa? no ho mille monete che stai dicendo? ma dove? ma dove? vabbè te li vedi draghi Marco ne ho mille ne ho mille te l'ho fatto ma c'è un po' trocose sto guardando le skin del avoc secondo me ti sei confuso 1700 e 87000 e su cosa? scusa non capisco non so di cosa tu stia parlando non so di cosa tu stia parlando oggi ho giocato molto da Apex capisci? quindi mi hanno farmato un botto di pacchetti ho fatto tantissime sfide ho fatto tantissime sfide ho fatto tantissime ma? c'è una schif- ah si sul volt ho fatto tantissime sfide e quindi mi ha dato tanti pacchetti capisci? e quindi quindi mi ha dato tanti pacchetti benvenuto nel video e mi è andato via sono atterrato in che senso? no perché? ma non è vero sei la parte migliore ma da ma non è vero? ma si basta regolare l'audio dai metti on you are the best si ma ecco te hai la condivisione audio? vabbè se mi senti basso cos'è? si eh ma non spaccati ma si ma fregate intanto youtube basta abbassare il volume di youtube no ma questa cosa è carina sovrasta tutte le eh buongiorno Marco oh sto Giacomo mi da proprio fan prendete oh me lo da proprio la decima garantita leggendaria Davide non si è mai eh guardalo va lì dietro vabbè Davide come l'ultima volta avevo trovato tre leggendarie di fila ti ricordi? fila? Davide? ma nel tuo stage ti danno dei soldi? no allora perché hai shoppato 70 euro? ma Davide mi ha dato Davide c'è un problema no scusa non è una decima garantita no? tu? eh si decima garantita Marco che è livello 9 ha la skin leggendaria di ma Marco perché sei livello 9 della skin leggendaria di no cambia skin fa vedere che sei livello 9 secondo me è perché visto che la ha pagato già visto che ha pagato il gioco ah si Marco che skin leggendaria hai? che skin leggendaria hai? questa qua io ce l'ho da ormai inizio da quando ho iniziato a giocare full moon over scar town caliber cross e roba l'hanno fatta insieme Marco equipaggiare e farmene vedere quella che cura quella che si tenete a sport eh? a bangalore bargarone ma bargarone proprio da dove ti è uscito dopo è meglio in un poligono di tiro non ho capito niente ho detto che dopo è meglio che andiamo in poligono di tiro così spieghiamo a Marco i comandi ma penso che non sia a livelli di bagno schiuma davide che con il tasto si salve Marco con che tasto si corre? Marco con che tasto si corre? Marco con che tasto si corre? Marco con che tasto si si accovaccia? per me e davide si per te no no per me no ho le palette beh ma non è oh ma cos'è sta storia? 10 garantite no? non penso proprio ma come no è sempre stato a radici davide cioè via via ma come? ogni 10 c'è la leggendaria guarda ah un oggetto leggendario ogni 30 ecco io ma scusa allora io quando le ho trovate 3 di fila eh botta di culo io penso a ogni 10 garantite hai capito wow vabbè queste mille monete me le tengo per l'evento come le monete? quante le hai? quante monete hai? quelle gialle anche io le monete quali sono le monete? dimmele tutte mille gialle easy 10 euro easy dimmi che leggenda ti mancano davide ti seguirà per aiutarti a sciopare non è vero scusa dicello cosa ti danno quanto hai pagato i cd? quanto ti è costato il gioco? quello lo sapevamo bella questa qua è la sciopata filippo più o meno google su google cerca per ragion disco penso che costa come la leggenda riedizione 7,90 e te l'hai pagato 7,90 eh? eh davide? eh? guarda qua eh? te gli hai fatti 1199 metri con il rampino? dai dai non è vero te ne hai fatti più di 1999 io ne ho fatti 1999 tre decisi quindi muto sono meglio di te prima schiena leggendaria che ho ricevuto davvero? proprio pre uno dei primi pacchi leggendaria è quella lì mutato e aspetta un attimo altri davide questa skin epica questa skin epica è migliore della skin no è meglio è meglio della leggendaria non quella che ho equipaggiato ora quella che ho equipaggiato prima è me adesso andiamo a vedere eh lo so voglio proprio vederlo con i miei occhi skin skin epica va bene che c'è? potete shoppare altri 26 euro di pacche io ti direi non shoppare niente perché già le leggende che ci sono che hai già sbloccato vanno benissimo stai parlando con Marco? si ah cos'è che ha chiesto? chi shoppare? si ma io ho detto magari non shoppare ma c'è solo quelle base si mmm ok quindi usa ghibi da si da ma Marco usa ghibi 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 si chiama ghibi eh ma lui non sai nomignoli cos'è sei bene a fare cosa? esplodere? eh 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 è un giudice esplode messaggio contro esplosione cosa? ma è la verità eh Davide Davide l'hai visto? l'hai visto? è andato via l'azzo eh? si l'ho visto skin epica o felicottero parliamoci sinceramente Davide felicottero dai eh fila oh però se trovi l'irlum non osare a vantarti io ti blocco quando te lo trovo c'è lo trovi sicuramente prima di me ma sicuro eh sì no 500 pacchi devi aprire ti stai avvicinando? eh no che non lo trovo sì il tuo mare lo trovo in questi 15 pacchetti è impossibile che lo trovi sì ok in questi 15 dicendo ma se continui così lo trovi no sì non penso 70 euro di pacche che vuoi Marco? io ho tutto ma poi c'è il lobby scusa sei un po' stupidino ma ecco eh ma ecco Marco Marco eh io volevo dirti che se giocavi qualche settimana fa o un mese fa ti regalavano cruce sì ti regalavano tre leggende ma ecco ovviamente se eri un bimbino eh perché non ti informo vai ho fatto il mega glitch ho toccato tot volte il rerum poi nella lobby ho calcolato il momento perfetto in cui eh octanio faceva il simbolo del rock a roll con le dita e unendo questa coincidenza di fattori astrali è probabile che adesso ci sia rerum guarda rerum guarda che bello non ci voglio credere non ci voglio credere non ci voglio credere ammettere un buon non ci voglio credere non ci voglio credere non ci voglio credere Davide non ci voglio credere non è che devi premerlo per i pappeti Chiai aiuto muore Ad esempio adesso devi premerlo sei volte Se lo faccio più volte mi da due Eurum Mi stai dire se mi da due leggendarie No, no, lo annulli Lo annullo però intanto mi ha dato Due leggendarie Uno, dos, tres, quattro, cinque, sestos Guarda, aspettiamo l'approvazione da Octane Aspettiamo Aspettiamo l'approvazione Guarda, guarda le mani Si sta preparando, si sta preparando Guardalo, guardalo Eh, eh, guardalo Eh Ogni quanto lo fa, scusa Non lo so Ma non è che è un'animazione rara Tipo quella di Mad Maggie Ah, ok, basta Guarda l'Eurum, guarda l'Eurum Come l'ho detto Vabbè, è ormai impossibile trovarlo adesso Mi tengo in questi quattro pacchetti Marco Danno il copyright Eh, no, no, Marco Spooky, scherzi Davide cantaci sopra, scheletto Eh, dai, tolta Grande Marco Marco, togli quella rara Dormi, guarda Comunque, la razza è andata 4 o 5 volte Ma che Bellissimo Peccato che la lampa non sia l'ova Capisci a me, Davide Capisci a me Vai, Davide Posso invitarti Sì, sì Invitiamo Davide adesso Io devo fare 10 partite con Octanio Grazie a tutti